L'inquinamento dei rifiuti di plastica è una delle piaghe che minacciano il distruggere flora e fauna nei nostri mari senza contare la devastazione delle spiagge. Ma forse c'è una speranza, un'azienda tedesca, la Hydra Marine Science, una italiana, la Novamont e una ONG, Mare Vivo, hanno prodotto una plastica che si risolve in mare. Christian Lott, direttore della Hydra, spiega come funziona questo prodotto. Grazie ai nostri test abbiamo scoperto che questi materiali sono completamente biodegradabili e si sciolgono sia in laboratorio che quando li abbiamo provati in un ambiente naturale, ovvero nelle acque del mare. I polimeri di questa nuova plastica, realizzata anche grazie allo sforzo degli italiani della Novamont, potrebbero essere davvero la soluzione di un enorme problema. Ogni anno sono sversate in mare 13 milioni di tonnellate di plastica che stanno devastando una risorsa di cui l'uomo non può fare a meno.